Amo il rugby perché ti dà questa possibilità di affrontarti ogni weekend con un avversario diverso e far vedere a lui, a loro, alla tua squadra quanto vali te davvero perché è uno sport che ti fa avere tanti amici, tante amicizie vere perché è uno sport che dopo quando sei fuori campo riesce a darti tanti insegnamenti per trasmetterli dopo nella vita di tutti i giorni. Penso che queste siano le basi più o meno del rugby.